Buongiorno da Edo, oggi puntata dedicata a Microsoft che bisogna ammettere negli ultimi anni grazie alle decisioni del CEO Satya Nadella si sta muovendo veramente bene sul mercato, sta innovando, sta investendo, sta lanciando nuovi prodotti e oggi ne parliamo cominciando dall'intelligenza artificiale con un progetto di un team di ricerca di Microsoft che con un sample audio di 3 secondi, con la voce registrata di una persona, è in grado di simularla leggendo qualunque frase in un modo che ad ascolto distratto sembra praticamente indistinguibile dalla voce reale il progetto di questo modello di linguaggio per text to speech si chiama Vali dovremmo migliorare probabilmente un po' la fantasia con questi nomi comunque per ora Microsoft non ha reso pubblico il modello e gli strumenti per usarlo liberamente forse temendo gli usi impropri che se ne potrebbero fare ma è stato pubblicato un paper con diverse demo dove si possono ascoltare proprio questi sample di 3 secondi con le voci reali poi una frase scritta che si può ascoltare prima letta dalla stessa persona che ha prodotto il sample e poi riprodotta da Vali per rendersi conto di quanto i due risultati siano effettivamente simili vi faccio ascoltare un paio di esempi questo è il sample questa è la frase letta dall'essere umano e questa è la stessa frase letta da Vali è abbastanza evidente che la simulazione è molto accurata se pensiamo che questa è solo la prima versione del modello le potenziali evoluzioni sono incredibili ma non è finita Vali, chissà se poi si pronuncia così o Volli, forse come il robot T vabbè comunque Vali può simulare l'ambiente acustico in cui una frase è stata pronunciata per esempio sentite questa pronunciata al telefono prima l'essere umano e poi la IA e infine può persino riprodurre le emozioni cioè dare un tono emozionale alla frase pronunciata come per esempio sentite questa l'umano e la IA è una cosa meravigliosa e allo stesso tempo spaventosa soprattutto ripeto perché possono migliorare e se questo è il livello attuale fra qualche anno il risultato sarà indistinguibile da orecchio umano questo modello è stato addestrato sulla libreria audio di proprietà di Meta chiamata LibriLite che contiene 60.000 ore di parlato in lingua inglese e 7.000 oratori umani presi soprattutto dalla libreria di audiolibri aperta della libreria LibriVox quindi per ora Vali è in grado di riprodurre soltanto la lingua inglese e nella seconda notizia che riguarda sempre Microsoft vi riporto un rumor secondo cui sarebbe pronta a investire 10 miliardi di dollari in OpenAI con l'obiettivo come avevamo già visto di integrare ChatGPT nella sua piattaforma di ricerca web Bing ma anche nei prodotti della suite Office si tratta di una cifra notevole considerando che Microsoft aveva già investito un miliardo nella start up di San Francisco nel 2019 la voce che circola è che questo nuovo round di finanziamenti vedrà la partecipazione di altri investitori portando il valore totale di OpenAI a ben 29 miliardi di dollari MILLION DOLLAR secondo i rumors Microsoft avrebbe il 75% dei profitti di OpenAI madre di OpenAI avrebbe una quota del 2% si parla anche di limiti alle percentuali di profitto ovvero una soglia massima entro cui gli investitori possono aspettarsi di ricavare profitti al momento non si sa esattamente qual è questo limite e i termini dell'accordo potrebbero subire delle modifiche in base all'evolversi delle trattative comunque in sostanza sembra una sorta di acquisizione con un qualche passaggio in più ci si chiede cosa stia trattenendo Microsoft dall'inglobare direttamente tutto il laboratorio di intelligenza artificiale comunque sia questo potrebbe essere un altro grande colpo per Satya Nadella che ricordiamo ci aveva già visto lungo investendo i tempi non sospetti infatti Microsoft e OpenAI hanno una relazione di lunga data ricordo l'accordo esclusivo per usare GPT-3 su GitHub Copilot nel 2020 e nel frattempo OpenAI è uno dei clienti più importanti tra le piattaforme di cloud computing Azure di Microsoft e ha accesso a un cluster di supercomputer personalizzato per l'IA con oltre 285.000 core CPU e 10.000 GPU in ultimo è bene ricordare che Microsoft non è stata immune dall'ondata di layoff cioè di taglia al personale dell'ultimo anno anche se l'effetto è stato più contenuto visto che si parla di un taglio di mille dipendenti che è una cifra enorme ma se consideriamo che rappresenta solo il 1% del totale della forza al lavoro di Microsoft questa si può ridimensionare Satenadella ha dichiarato in un'intervista a CNBC che i prossimi due anni saranno particolarmente sfidanti per l'azienda del tech perché negli anni del Covid c'è stato un aumento impressionante della domanda e adesso stiamo assistendo a un ritorno alla normalità che in combinazione con la recessione economica porta le aziende a ridimensionamenti e il mercato a regolarsi verso il basso ma in una prospettiva di lungo termine c'è da essere ottimisti le due ragioni principali sono il cloud e proprio l'intelligenza artificiale che secondo il CEO trasformerà completamente il knowledge work e lo sviluppo software nei prossimi anni vi consiglio di dare un'occhiata all'intervista se vi interessa capire di più del nostro mercato ed era tutto per la puntatona dedicata a Microsoft grazie per avermi ascoltato fin qua vi ricordo di nuovo che potete seguirmi anche in podcast e siccome mi è stato fatto notare che non ho messo da nessuna parte i link allora in descrizione trovate i link al podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast così è anche facilissimo da trovare se invece mi state già ascoltando in podcast bravi, grazie, fate bene, ottima scelta quindi io ho finito bene, alla prossima ciao